Grazie in mocio per un altro obiettivo Di vincere facendo la skype Che ne sai se vuoi unire Antonio? L'ho invitato io Antonio Sono in un video, saluta Io che sto facendo una live Io sono in live Antonio saluta, sono in video Antonio, ora sono in un video pure io E cerchiamo di fare la skype E metti pronto prima Antonio長 è in un video Antonio, sei pronto a perdere? Sì, sulla skybase sì Andiamo a per fare la skybase, non andiamo a deposito Andiamo No, ma possiamo prendere i lampini Se cadiamo prendiamo i lampini Antonio, facci parlare Allora, dividiamoci, dividiamoci Antonio, vieni con me Voi due andate alla città Io e Antonio andiamo a prendere i lampini In caso mai si cadiamo Lo so, però almeno io e Antonio ce li prendiamo Antonio andiamo a prendere i lampini Vieni qua Vieni qua, Antonio devi venire con me Vai I lampini stanno, stanno, stanno Ok, va Non va bene perché le socciono la navicella E se mi è fatto su un ziole Qua Non di nulla Allora, noi stiamo qua Antonio qua devi venire Questa c'è la città è una specie Questa c'è la città è una specie Sì, ragà, ragà, ragà Buttate i lampini Che culo che ho Che culo che ho Io viste Buono Buono, ce n'ho due Buono, dovendo potete venire Guarda, ti puoi andare alla Skype Ci siamo tutti Sì Sì Vai No C'ho l'arma mitica e il lampino Vai Per non spaccare il lampino per sicurezza Salgo sul lupo Antonio Ok, presto Andiamo da loro Andiamo da loro Andiamo da loro Sai sul lupo tu Andiamo da loro Ruth, prendiamo Max Prendiamo tutto Insieme a post Vai Che culo Buono i due lifter Raga, se volete Io c'ho tre specie E uno sui donne Vai, vai, vai Sto venendo Vai Secondo me Non voglio L'arriamo a questa Secondo me la vinciamo Vale Puoi vi salve in un video Eccomi Tonio Lo usiamo Non è utile Dobbiamo prendere So much Sì Sì Buono Cuore Guarda, è cuore io c'ho tre specie Che? Hai trovato un altro? Ho visto che io c'hanno due No io no due Un attimo Antonio veni da me che ti ho visto Antonio veni da me che ti ho visto Ah, eh, allora Mh Io ripeto io d'Antonio Un'Antonio tenuto a me Beh, prendito Andrei poi in caso mai stai vicino a noi Ah, adesso qui ho di questo mio appino Eh, sbaglio No, no, si muove No, no, non sono quella che mi viene Eh, un attimo Arrivo Un attimo che Ok, si è unito Ok Ok Ah, ma stava fai tanto Stava fai tanto contro Là ci sono Ah, con il bot Con il boss Vabbè Lo ci ho mostrato Stava fai tanto contro il bot Eh, il boss sta avendo da no Ah, raga ma io non c'ho neanche fu di legno Stava fai tanto Ah, ma dovrebbe느 Stava fai tanto Stava fai tanto Stava fai tanto Che fai tanto No, no, d' accounting Sono le guardie come rubarne chi dalle guarde la sky base dei mini mazi la sky base e buongiorno aspetta aspetta non rompe non rompe dai antonio potevamo prendere un sacco di mazi ma va bene ha rotto tutto tu vai romper da un'altra parte vai romper da un'altra parte vai andrea abbia isolato tutto il palazzo qui ai cosi ma voi non siete da noi io sto formando come un schifoso schifoso malfamato io fu di legno 135 di mattone e 312 di ferro buono il furtino in caso mai se lo dobbiamo cadere cominciamo sotto i piedi ah è vero per non prendi le gomme di avere molta nuta succo tranguzio no di latto tranguzio va bene ok ok bagniamo il ferro e mattone bella ok bagniamo il mattone è il tuo mattone ecco flora ma dove stai stai fermando si stai fermando ma ora vedo l'altra parte del mondo si ma c'è più un mazzo io ho tante pietre e ogni pietra una scelta io sono quasi fuori da mattone di legno fuori io di legno vabbè oh andro stai fermando non so perchè ma ho paura che stai fermando non so perchè ma ho paura che stai fermando pensiamo stessa cosa andrea scrisciandoci eh fuori un metro bravo bravo pure il tuo ma ma giù ma che cosa i fuochi si a giù fuori fuori da tingsio tutti fano le scoperte e mi riesco a parte per le vende poi qua il vento a parla il vento ci deve essere ce l'ho sto dovendo baam che belli i fuochi però non mi ingerano a sapere i fuochi buona sta pietro Antonio sei un babboino un babboino mi fa cagare con l'arma sto raccogliendo come un porco stretto io sono a metà di Antonio perché devi birdare come te volevo dire in quale lingua mi sa che qui il tempo che iniziamo lo skybest abbiamo già finito Antonio non devi birdare a cacchion de canium ma mettiamo sta scala eh ma io non sono mai full di mattone ma perché per quanto piccola c'è basta vedere che sono un po' di livello no cioè abbiamo di più vabbè ma è tipo dire che sono full di mattone eh lo sei finizia andiamo ci sta paga ce la distruco da non do niente va bene dovremmo iniziare è iniziata safe ma io non sono ancora full di ma io non sono ancora full di ma io non sono ancora full di però c'ho in compenso full di regno full di regno 800 809 di mattone e 546 di ferro quanti stai devi stai vinto nella tua vita 3 3 cominciamo da qua perché è bello alto ma dovevo andare così spedito quasi spedito sì quasi sì Antonio devi venire qui da noi lei è il mondo mio che spica ci fanno cadere ci fanno cadere ah niente sono mossa che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è 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 resta prima me poi andiamo a usare tutti vai non l'hanno visto sono immortale ballo andiamo da ande 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 and ande 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 and ande ande and the my life I my life and omnimin cellular no vado vengo io dietroietto io sono in test ten 까 Forse abbiamo un po' sbagliato per fare la skybase, però vabbè, dai! Restando Andrea! Vabbè, lo curro io Antonio! Allora aspettate, restiamo Andrea! Antonio, Andrea, Andrea è il professore! Allora, venite, tutti! Vai, basta! E allora, Peppe, tieni! Andrea, tieni! Peppe e Andrea si dovranno prendere! Antonio dai io ad Andrea! André, al posto del lift! Prenditi questo al posto del lift! Mi spara! Che è meglio del lift questo! Pensate che io ci sono un'arma mitica! Pensate che io sono un'arma mitica! Ecco! Mi vado, mi vado! Qual è il film che c'è appellato eh? Quindi il lift di ruolo non abbiamo... non dobbiamo avere a pietà! Intanto! C'è il bot! Ci avete colpia R! Mi spuga! Uè, come scrivo! Ah, ma non lo sono film! Sì! Ah! Non devo avere la mia copia R! Da mia copia R! Da mia copia R io non gli scopo niente! Sì! Grazie! È meglio Antonio! Un bot! No, no, un player! Due player! 29, 28! Guarda prendo il balletto viola! Siamo 4 un'arma! Copiti sopra! 2 un'arma! 2 un'arma! 2 un'arma! 3 un'arma! 3 un'arma! 3 un'arma! 3 un'arma! 3 un'arma! Ah! 3 un'arma! No, io devo evitare R! 3 un'arma! 3 un'arma! durch trasformando da un columnar! agliacitori liquidi! Potremmo avventure! quack! isu il Papa! Spannalo! Don Watto! Da, inside, right? abbiamo avamente avuto la linea! ÈHQUI! èHQUI! è della linea! E con la linea! è data questa! ha dato un punto! Bravo Antonio viene! vieni! Perfetto! Questo è 1 Members! con la linea! Ed è da! ho preso la corona si ho vinto con la corona senza skybase però vabbè gang bitch no io ce l'ho già 5 vittoria con la corona